Buongiorno ragazzoli e bentornati sul canale anche oggi 20 maggio 2021 Stiamo sempre su Fortnite per vedere le novità del negozio oggetti E non perdiamo tempo, andiamo subito a cliccare negozio oggetti e vediamo cosa c'è di nuovo Ma come sempre ragazzoli vi ricordo se volete supportarmi in basso a destra supporta un creatore Scrivete il codice LordCreamor, ho scritto LordCreamor Premete il tasto accetta e tutto quello che shopperete supporterà il canale Io intanto vi ringrazio anticipatamente e andiamo a vedere le novità di oggi E allora abbiamo subito gli oggetti in evidenza E di nuovo qui Fosca Fiaba, attenzione 1500 V-Bac Eccola qua Fosca Fiaba, un costume epico con due stili selezionabili Molto bella, mi piace un casino Con il suo dorso decorativo che è il leader del branco Molto carino 1500 V-Bac, bella questa è proprio bella Poi abbiamo l'ascia cattivona a 800 V-Bac E ancora Caccialupi copertura a 500 V-Bac E poi abbiamo di nuovo lui Carlino con tre stili selezionabili Quanto è caruccio e la sua ciotola come dorso decorativo che fa schifo e tutta sporca Lo sappiamo 1500 V-Bac E poi abbiamo il sacchetto per il cane Sempre di Carlino, dorso decorativo 200 V-Bac E ancora giocattolo da masticare 500 V-Bac Strumento di raccolta E poi abbiamo la copertura Bau da 300 E abbiamo anche Potassium Maximus Che figata 1200 V-Bac con il suo dorso decorativo che è il mantello di Potassium Bellissimo questo, mi piace Poi Gladio di Potassium, strumento di raccolta da 500 V-Bac E ancora abbiamo, niente, di nuovo lei Quindi torniamo indietro E vediamo le offerte giornaliere, operazione segreta signori Costume epico Molto carina con diversi stili Due stili selezionabili Eccolo qua, molto caruccio E poi abbiamo il suo dorso decorativo che è aspirante Anche lui con due stili selezionabili Eccolo qua Perché non me li fa vedere in automatico? Non lo so 1500 V-Bac E poi ancora abbiamo Bash, signori Questo coso fantastico Unicorno mega galattico Con il suo dorso decorativo che è lo scudo del Lammacorno Molto carino 1500 V-Bac Poi abbiamo la copertura Ricchezze perdute da 300 V-Bac E ancora ghiacciolo, strumento di raccolta 500 V-Bac E ancora un emote d'orso 500 V-Bac anche questa E poi concentrazione pura Questa ce l'ho 200 V-Bac Tutto molto molto carino E andiamo ancora all'offerta appena pescata Pesce secco Costume da 1200 V-Bac Eccolo qua Molto molto caruccio Con quanti stili? Tre stili Uno, due e tre Eccolo qua, carino Con il suo dorso decorativo che è la sacca salmastra Pure questa c'ha gli stili Non ha gli stili E andiamo avanti Abbiamo ancora l'incrociatore corallino Un deltaplano molto molto caruccio 800 V-Bac Poi abbiamo vecchio scarpone Strumento di raccolta Da 500 V-Bac E ancora pesce fresco Un altro strumento di raccolta Mamma mia quanto fa schifo 800 V-Bac Poi abbiamo una copertura Sdrucciolevole 300 V-Bac E ancora un'altra copertura Faccia di pesce 300 V-Bac E ancora un'altra copertura Pesciolino Da 300 V-Bac Tutto molto molto carino E abbiamo un bundle Ancora le offerte appena pescate Dove risparliamo 700 V-Bac Quindi 1800 invece di 2500 Il bundle principessa Felicity Quanto è brutta Vabbè Allora abbiamo lei La principessa Felicity Proprio un tipo fantastico Poi abbiamo il suo dorso regolativo Che è Butter Dali Mi lo fai vedere? Grazie Eccolo qua Il suo strumento di raccolta La bacchetta dell'acqua E per finire una copertura Verde acqua reale Molto carino 1800 Anziché 2500 Oppure come sempre Ripendiamo separatamente Quindi principessa Più il suo dorso regolativo Bacchetta dell'acqua Bla bla Verde acqua Ciao 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 Molto molto caruccio Ma andiamo avanti Perché abbiamo ancora Altre offerte Pesce secco Atrantideo 1200 V-Bac Eccolo qua Con il suo dorso regolativo La scala titanica Oppure possiamo prendere I bastoncini di pesce Da 800 V-Bac E ancora Pesce balestra Ammazzavante è incazzato questo Con tre stili selezionabili Costa 1200 V-Bac Più il suo dorso regolativo Oppure lui ha tre stili selezionabili Non è vero mai Solamente uno stile Poi abbiamo Bolle mimetiche Da 500 V-Bac E ancora Stella Marina Carinissima Questa non l'avevo mai vista Molto molto squamosa La ragazza Con il suo dorso regolativo Che è l'anemone di mare Molto molto bello Poi abbiamo ancora Conchiglia distruttrice 1200 V-Bac E ancora Medusa Un deltaplano Orribile Bello ma fa impressione 1200 V-Bac Tutto molto molto caruccio E poi torniamo con il Bundle Beast L'abbiamo visto un sacco di volte Lo rivediamo 2000 V-Bac Anziché 2006 Abbiamo Beast Boy Tre stili selezionabili Poi abbiamo Titano del divano Che è il suo dorso regolativo Lo strumento di raccolta La mazza B-Beast E l'emote Eccola qua Quando si trasforma Scatena la scimmia Molto caruccio 2000 V-Bac Oppure Riprendiamo separatamente Come al solito Eccetera Eccetera E andiamo di nuovo Al bundle di Batman E allora abbiamo Batman Zero Con il suo mantello Logoro Lo strumento di raccolta La sciarampino Il deltaplano Batman Zero Wing E la schermata di caricamento 2100 Anziché 3500 Oppure riprendiamo Separatamente Come sempre E poi abbiamo anche Ragazzuoli Catwoman Zero Eccola qua Molto carina 1500 anziché 2000 Proprio caruccia Sta tipa Con il suo strumento di raccolta Il rampino artigliato Di Catwoman Bellissima Oppure la prendiamo Separatamente Lei più il rampino A parte Tutto molto bello E poi abbiamo Le offerte a tempo Pacchetto Sfida Sassi e Serpente Eccolo qua 11 ore 99 Abbiamo Lira Con due stili selezionabili Abbiamo il suo dorso decorativo Che è l'agente Pietro Abbiamo lo strumento di raccolta Lasta Serpeggiante E 1500 V-Bac Di incarichi Molto caruccio Anche questo Poi abbiamo I cavalieri Dell'area Ristoro Eccoli qua 2600 V-Bac Abbiamo lui Sul burger Con dorso decorativo E strumento di raccolta Abbiamo quest'altro Che è Zaire Il crudele Sempre con dorso decorativo E strumento di raccolta E poi abbiamo anche Pico de Galland Con dorso decorativo Strumento di raccolta E in più abbiamo La scremata di caricamento 2600 V-Bac Poi abbiamo ancora Ragazzuoli Il pacchetto doppio giochista Eccolo qua Da 2500 V-Bac Dove abbiamo Ash doppio giochista Con due stili selezionabili Bianco e più scuro Poi abbiamo La striatura doppio giochista Che è il suo dorso decorativo Abbiamo Jolly doppio giochista Il suo dorso decorativo E poi abbiamo anche Il doppio giochista Chaos Con il suo dorso decorativo Che è questo qua Tutti quanti Ci hanno due stili selezionabili E poi giustamente Abbiamo il pacchetto Piccone ombre Da 1200 Dove ci danno Tre strumenti di raccolta Le lame ombre Abbiamo il corvo d'oro E poi abbiamo La falce del Chaos Oppure possiamo scegliere ancora Il pacchetto Plotone pericolo Eccolo qua Praticamente 3,99 euro Con 600 V-Bac In omaggio Abbiamo il centurione Con due stili selezionabili Il suo dorso decorativo Il suo strumento di raccolta È appunto I 600 V-Bac Ci hanno tutti i due stili selezionabili Molto caruccio E poi abbiamo Per finire Il bando Rite bene Chi rite ultimo Ormai lo sapete a memoria 29,99 euro Vi danno anche 1000 V-Bac In omaggio C'è Joker con tre stili Poi Sonnivi con due stili Remida leggendario Con due stili Poi abbiamo Dorsi decorativi Florileggio Ghigno di morte L'emblema di Mida Leggendario E ancora Strumenti di raccolta Abbiamo l'incoronatore L'ascia d'edera Il tiro mancino E come sempre Possiamo comprare 25 livelli Del pass battaglia 1850 V-Bac Oppure possiamo accedere Alla crew di Fortnite L'abbonamento mensile Da 11,99 euro Che vi dà Il pass battaglia Incluso tutti i mesi Il pacchetto crew mensile Che poi vediamo 1000 V-Bac In omaggio Il bonus Salva il mondo Che ottiene l'eroe Deimos E accesso permanente Alla campagna PVE Sui dispositivi compatibili E in più c'è anche Il bonus Spotify Premium Tre mesi Gratis di Spotify Ma vediamo Che cosa ci dà Questo abbonamento Della crew Ci dà lui Deimos Molto molto caruccio Con quanti stili selezionabili C'è una tre Deimos Giusto Vediamo un po' Tre stili selezionabili Carinissimo Abbiamo il suo Dorso decorativo Il suo strumento di raccolta Abbiamo la copertura Abbiamo anche la schermata Di caricamento Molto molto bello Ragazzuoli Ancora una volta Io vi ricordo Se volete supportarmi Se vi fa piacere Ovviamente Mettete il codice LordCreamor Nel vostro shop di Fortnite Prima di fare gli acquisti E tutto quello che acquisterete In minima parte Supporterà il canale Io vi ringrazio Per aver seguito questo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanellina Condividete il video E il canale Sui vostri social Così più persone Vengono a conoscenza Di quello che facciamo E in più Se non vi dispiace Venitemi a seguire Tutti gli altri miei canali Andate sul sito www.creamor.it E trovate tutti quanti Link per Twitch Youtube Discord Facebook Instagram Telegram E un sacco di roba Quindi ragazzuoli Detto questo Io vi auguro una buona giornata Vi saluto E ci vediamo sempre sul canale Ciao ragazzi Grazie